Fargo, difesa forte su di lui, fisica da parte di Bin, arriva un fallo per una trattenuta e un tecnico contro Alessandro Gentile, altro tecnico e qua gli animi si stanno scaldando parecchio Gentile a muso duro con la terna arbitrale, già Len Jones interviene per provare un po' a placare gli animi e portarlo via perché sta riscando tanto Alessandro Gentile a meno che non sia proprio già arrivato un doppio tecnico con espulsione e infatti sì, doppio tecnico, Ale Gentile espulso e lascia così un pomeriggio, una partita in cui non è mai riuscito a entrare qui non rivediamo il fallo perché è stato fischiato lontano dalla palla, qua la protesta, arriva il tecnico, proteste reiterate secondo tecnico e ovviamente espulsione, Gentile lascia con tre punti e uno su dieci al tiro Grazie 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 Grazie